Il Comune ha prorogato fino all'8 febbraio 2019 i termini per la presentazione delle domande di rimborso parziale o totale per l'acquisto dei libri di testo. L'istanza di rimborso può essere presentata utilizzando la piattaforma di Telemoney, accedendo dalla home page del sito istituzionale alla sezione rimborso spese per acquisto libri e cliccando sul link apposito. Per informazioni è possibile recarsi al competente ufficio politiche scolastiche nei giorni di apertura. Grazie a tutti.